In questa lezione ripassiamo gli angoli al centro e gli angoli alla circonferenza, con relative proprietà. Iniziamo dalla definizione di angolo al centro. Intanto dobbiamo ricordarci la definizione di angolo, per poi riportarci alla definizione di angolo al centro. Disegniamo una circonferenza. E diciamo che si chiama angolo al centro ogni angolo che ha il vertice coincidente con il centro della circonferenza. Quindi questa è la mia circonferenza, questo è il centro O della circonferenza. Se io disegno un angolo che ha il vertice nel centro della circonferenza, Questo, lo chiamo alfa, è un angolo al centro. Quindi scrivo la definizione. Quindi, questo è il raggio. Mentre la semiretta che ho disegnato in grigio è il lato dell'angolo. Ognuna delle due, quindi semiretta A e semiretta B sono i due lati dell'angolo. Questi due lati dell'angolo incontrano la circonferenza due punti A e B. Che indico con le lettere maiuscole. Vediamo adesso dei particolari tipi di angoli al centro. Allora, il primo caso che consideriamo è quello di angolo retto. Cioè l'angolo che rappresentiamo in questo modo. Lo chiamo alfa, che è formato da due semirette che sono tra loro perpendicolari. Quindi alfa vale 90 gradi. Questo angolo insiste su un arco AB che è un quarto della circonferenza. Quindi l'arco AB è un quarto di tutta la circonferenza. Invece se l'angolo al centro insiste su un arco che è semicirconferenza, come in questo caso. Allora, l'angolo beta misura 180 gradi, cioè a un angolo piatto. Quindi le due semirette coincidono con i diametri, con il diametro in questo caso. Quindi, primo caso era angolo retto, che è formato da semirette perpendicolari tra loro. E queste due semirette insistono su un arco che è un quarto della circonferenza. Secondo caso, beta angolo piatto, quindi misura 180 gradi. Le due semirette insistono su un arco AB che è proprio metà circonferenza, quindi semicirconferenza. L'ultimo caso particolare è il caso di angolo giro, cioè un angolo che misura 360 gradi. E lo chiamiamo gamma. Quindi ho il centro della circonferenza, la semiretta, e questa semiretta fa un giro completo su se stessa, e quindi l'arco diventa AB, quindi A coincide con B, diventa proprio tutta la circonferenza. Quindi l'arco AB non è più un arco, ma è tutta la circonferenza. Quindi, in questo caso, insiste su tutta la circonferenza. Passiamo adesso all'angolo alla circonferenza. disegniamo la nostra circonferenza. centro della circonferenza. Un angolo, si dice angolo alla circonferenza, si ha il vertice sulla circonferenza e i suoi lati sono o entrambi secanti o uno secante e l'altro tangente alla circonferenza. Quindi posso avere due casi. Posso avere il caso di... lati entrambi secanti. Quindi il caso dell'angolo alfa. Quindi le due semirette A e B, che sono i lati dell'angolo, sono entrambe secanti alla circonferenza. Quindi hanno due punti di incontro, che sono A e B per la prima semiretta e A e D per la seconda semiretta. Quindi alfa è il nostro angolo alla circonferenza. oppure posso avere un altro caso in cui le due semirette, che sono i lati dell'angolo, sono uno secante e l'altro tangente. Grazie. 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 Quindi chiamo beta quest'angolo, A e B i suoi lati. Quindi la simiretta A è secante, perché incontra la circonferenza in due punti. li chiamo A grande e B grande, invece la simiretta B è tangente perché incontra la circonferenza solo nel punto A. Però entrambi, α e β, sono angoli alla circonferenza. E adesso vi scrivo la definizione. Passiamo adesso a parlare di angoli corrispondenti. Quindi, un angolo al centro e un angolo alla circonferenza che insistono sullo stesso arco si dicono corrispondenti. Facciamo un disegno. Quindi, se io ho l'angolo α che insiste sull'arco AB, e questo è un angolo al centro, e ho anche l'angolo beta che insiste sull'arco AB, α e β, α al centro e β alla circonferenza, si dicono corrispondenti perché insistono sullo stesso arco. Cioè, insistono entrambi sull'arco AB. Ad ogni angolo alla circonferenza corrisponde un solo angolo al centro. Invece, a ogni angolo al centro corrispondono infiniti angoli alla circonferenza. Quindi, io riesco a disegnare infiniti angoli alla circonferenza che insistono sempre sull'arco AB. e così via. Angoli corrispondenti, α e β ma anche α e γ. Passiamo a vedere le proprietà degli angoli al centro e degli angoli alla circonferenza. Allora, prima proprietà. Se ho due angoli al centro che insistono su archi congruenti, quindi, l'arco AB è congruente all'arco CD, allora gli angoli sono tra loro congruenti. Quindi, angoli al centro che insistono su archi congruenti sono tra loro congruenti. Quindi, io ho l'arco AB che è congruente all'arco CD, Allora, l'angolo α è congruente all'angolo β. Passiamo alla seconda. La seconda proprietà ci dà la relazione tra l'angolo al centro e l'angolo alla circonferenza tra loro corrispondenti. Allora, se io ho un angolo al centro, α, e disegno il suo corrispondente, un suo corrispondente β, io so che α è il doppio di β. Quindi, l'angolo al centro è il doppio dell'angolo alla circonferenza suo corrispondente. Quindi, viceversa, β è un mezzo di α. Quindi, ad esempio, se in un esercizio io so che α vale 60 gradi e chiedo quanto misura il suo angolo alla circonferenza corrispondente, basta fare β uguale α diviso 2, quindi 30 gradi. Viceversa, se conosco β, moltiplico per 2 e trovo α. Questa proprietà ha un caso particolare, cioè il caso in cui mi trovo un angolo al centro e un angolo alla circonferenza che non insistono su archi qualsiasi. Ad esempio, chiamo AB il mio diametro. Il diametro sappiamo di vedere la circonferenza in due semicirconferenze e disegno un angolo alla circonferenza che insiste su AB, quindi insiste su una semicirconferenza. Chiamo D questo punto. Questo angolo alla circonferenza è metà dell'angolo al centro che insiste sullo stesso arco, ma l'arco è la semicirconferenza. E l'angolo al centro che insiste su questa semicirconferenza è questo. Questo è un angolo piatto che misura 180 gradi, quindi, e lo chiamo α, quindi β, che è l'angolo alla circonferenza a suo corrispondente, è la sua metà, cioè misura 90 gradi. Quindi, ogni angolo alla circonferenza che insiste su una semicirconferenza è un angolo retto. Quindi, tutti i triangoli che io riesco a disegnare in questo modo sono tutti triangoli rettangoli. Ultima proprietà, se io ho più angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco, questi angoli sono tutti congruenti. Quindi, α è congruente a γ che è congruente a β perché insistono tutti sull'arco AB. Ecco le proprietà, ci fermiamo qui.